cari amici di motorbox buonasera bentornati a radio box puntata numero 14 stagione numero 33 per 14 con me alberto sai io ci sono salvo sardina luca manacorda che come al solito fa la staffetta col bel valtieri che stasera non è qui con noi comunque vabbè prossima puntata gli daremo tutte le soddisfazioni del caso facendo un qualcosa di quasi monotematico sulla moto gp chiederei a salvo di mettere subito in sovraimpressione ecco il bannerino come seguirci ragazzi e ragazze basta che andiate su qualsiasi piattaforma scriviate motorbox in linea di massima ci dovreste trovare comunque facciamo un breve recap facebook motorbox youtube motorbox tv mi raccomando mettete like al video cliccate sulla campanella in modo tale che siate sempre aggiornati sui video e sulle puntate sia nostre che dei ragazzi che seguono il prodotto instagram sapete abbiamo due canali motorbox sport quello che gestiamo noi la redazione sport di motorbox e motorbox com il canale istituzionale poi twitch e spotify su twitch motorbox com su spotify radio box formula 1 in modo tale da poterci seguire anche quando perdete la puntata in diretta o meglio per seguirci anche dopo aver visto la puntata in diretta siete in palestra che pompate siete alla spiaggia sentite radio box siete con la nonna perché poi c'è la nonna la devi mettere se non metti la puntata non è omologata quindi condividete vedete la puntata con vostra nonna che sicuramente a spotify premium quindi si sente tranquillamente radio box e la può sentire anche in due per tre per quattro per parliamo velocissimi e quindi facciamo ancora più ridere del solito va bene tanto salutiamo gabriele salutiamo roberto che già ci stanno seguendo stato un formation lab un po atipico perché siamo andati un po lunghi però oggi scoprirete vedete che sarà una puntata un po diversa rispetto alle altre allora cerchiamo di rendere il tutto un po più canonico chiederei immediatamente a salvo sardina dove si è corso nel weekend quali sono stati i risultati del gran premio posso che qualcuno non lo sappia però vabbè ci piace fare così nel weekend si è corso a baku gran premio da zerbagen il podio più assurdo intanto di questa stagione magari ne vediamo qualcuno ancora più assurdo vittoria di sergio perez seguito da sebastian fetter e da thier gas né cioè era così assurdo che manco se lo ricordava lui vi faccio subito una domanda brucia pelo tanto oggi oggi va così baku maggiore di spa franco champ cioè perché ormai il trend è quello il trend è quello però vabbè no no baku pista vera bella bella e basta diciamo che ormai è entrata nel cuore di tutti gli appassionati dopo magari i primi due anni in cui non si sapeva come sarebbe stato però ora a zerbagen tutta la vita luca si è corso anche in moto gp su una pista che in realtà per quanto più canonica per quanto appartenente a quelle che fanno parte del novelo dei circuiti storici però regala gare direi abbastanza noiose sia in formula 1 che in moto gp eh sì sì la buona cara vecchia barcellona da noi apprezzata come inviati ma un po meno quando si tratta solo di osservare le gare qua un podio che invece definirei anche qua diciamo non proprio tipico però me lo ricordo molto meglio rispetto salvo e qui invece ha vinto miguel oliveira sulla ktm ha preceduto le due ducati di john zarco e jack miller anche se in realtà sul traguardo c'era fabio quartararo che era terzo però come avranno visto che ha guardato la gara che non ha visto magari ha detto quartararo si è aperto la tuta in gara ha perso si è tolto via la parte qua davanti che protegge il corpo per quello ha ricevuto due penalità dopo la bandiera scacchi ed è scalato quindi in sesta posizione così zarco gli ha anche recuperato un po di più di punti in classifica e bagnaia che arrivato settimo ne ha persi pochi pochi bene allora prima che inizi la puntata c'è andrea sim racing che dice la mia ragazza mi ha lasciato e sono triste ditemi qualcosa per tirarmi sul morale non lo so ragazzi qua ci pensiamo e poi dopo magari troviamo troviamo il modo per per coinvolgere anche andrea non lo so andrea magari ti dedichiamo un meme non lo so ma una corda pensa 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 un meme per per uno che è stato lasciato e così magari lo dedichiamo a fine puntata guarda io vedo vedo che una risposta è arrivata è inerente a un'altra cosa perché si parla di quartararo però gabriele coscia secondo me ha scritto la cosa perfetta per andrea sim racing ed è questa qua non è la fine del mondo ragazzi dai andrea morto un papa se ne fa un altro dai perfetto perfetto non sappiamo se gabriele parlasse della ragazza di andrea o di fabio quartararo però lasciamo un grosso punto di domanda salvo ti chiedo e di nuovo qua poi evitiamo di far la gag penosa che torniamo in onda e l'ospite non c'è l'ospite ci sarà ci raggiungerà verso metà puntata per regressi impegni chi sarà con noi questa sera un ospite di altissimo livello max papis che un ex pilota ma diciamo praticamente un istituzione dell'automobilismo americano e non solo perché poi in realtà ha corso anche in formula 1 ha fatto tantissime robe e ci raggiungerà tra poco posso mandare la sigla intanto già che si mandi la sigla e poi parliamo subito di bacco allora eccoci qua abbiamo assistito a un grandissimo gran premio ricordiamo come si intitola questa puntata io sono molto fiero perché tutte le volte facciamo delle arrampicate sugli specchi clamorose per trovare dei titoli brutti oggi il titolo brutto l'abbiamo trovato subito zero a zero e a zero scritto come ma a zero in che senso scusa a zero nel senso della zerbaijan ok grazie c'è un zero della zerbaijan che hanno fatto zero a zero vabbè ok a posto allora luca ti coinvolgo subito ora che finalmente salvo ha tolto quell'ignobile bannerino che in qualche misura ti tagliava e ti chiedo cosa è successo e come interpretiamo questo zero a zero quindi che poi fondamentalmente il numero di punti raccolti dai due contendenti per il titolo mondiale chi dovrebbe essere più deluso da questo risultato chi ha più da recriminare emilton o verstappen ma allora abbiamo visto appunto la gara ha avuto questo andamento visto che siamo in zona geografica lì vicina da montagna russa perché c'è stato un po un saliscendi di positivo negativo per i due protagonisti del mondiale è finita appunto zero a zero entrambi hanno sia da recriminare sia da festeggiare perché a un certo punto la gara stava sorridendo verstappen poi ha sorriso per poco emilton e poi alla fine è finita appunto in pareggio detto ciò stando quanto visto in pista e considerando come stava andando la gara fino a pochissimi giri dal termine chi ha più da recriminare alla fine rimane comunque verstappen anche se alla fine appunto se l'è cavata ancora perché questa era un'altra pista dove appunto la red bull era superiore alla mercedes lui poteva incamerare grazie anche a un perez veramente eccezionale un bel bottino su emilton gli parliamo di 10 11 punti perché uno era primo l'altro era terzo in più c'era anche il giro veloce che era di verstappen quindi alla fine comunque anche se è finita 0 0 è uno 0 0 che però continua a pendere dalla parte di emilton nonostante poi appunto il finale quello che ha rosicato per ultimo è stato lo stesso emilton ecco salvo qua non dobbiamo fare confusione tra punti guadagnati e i punti utilizzati col termine della box del pugilato no per quanto la distanza in campionato sia di un solo punto iridato ai punti inteso nel termine boxistico la stagione di verstappen si fa preferire a quella di emilton sotto ogni punto di vista perché tutto quello che poteva andare male a verstappen è andato male e fondamentalmente anche a baku lui ha perso 25 punti però non per una sua colpa i 18 punti o i 25 punti che eventualmente ha perso emilton gli ha persi per un suo errore secondo errore grave di emilton possiamo dire che dopo sei gare fondamentalmente mercedes e red bull siano state più o meno equivalenti fino a questo punto della stagione e l'idea che ho io è che a verstappen fondamentalmente manchino più o meno una trentina di punti su emilton vedi l'errore di emilton a imola che è stato poi di fatto cancellato dalla bandiera rossa vedi il vedi poi quello che è successo quello che è successo a baku quindi come te cosa ne pensi ecco beh in effetti sto facendo i calcoli a mente mentre tu facevi la domanda 18 punti in più emilton per quello che è successo a imola avrebbe 18 in meno se facciamo 17 facciamo 16 era mi pare nono alla bandiera rossa per cui magari qualche punto lo recuperava 15 punti in più rispetto a quelli che avrebbe avuto in situazioni normali e 25 in meno per verstappen a baku si poi va bene non non se verstappen non fosse andato a sbattere probabilmente emilton sarebbe stato terzo sarebbero stati 11 punti però stiamo comunque parlando con mettiamoci mezzo anche anche il baren che però quella lì è stata una situazione di gara ed effettivamente è stato uno sbaglio di verstappen però parliamo fondamentalmente di almeno 25 26 27 punti quindi ad oggi verstappen per quello che si è visto in pista probabilmente dovrebbe avere una gara abbondante di vantaggio su emilton cosa che in realtà non è cosa che in realtà non è bello così perché vedere due che sono così a lottare punto a punto si si sbattono per il giro più veloce cose del genere secondo me fa bene allo spettacolo fa bene alla formula 1 è chiaro che come dici tu forse verstappen è quello che in questo momento può recriminare da dallo svolgimento di questo campionato mi viene in mente soltanto un punto un momento in cui verstappen effettivamente ha avuto fortuna ed è nella sfortuna delle qualifiche quello che è successo a monte carlo perché è vero che lì poteva giocarsi da pole position il fatto che però leclerc non sia partito gli ha dato la possibilità di vincere in maniera abbastanza comoda il gran premio di monaco in un momento in cui invece emilton era in grossa difficoltà perché appunto non era subito lì dietro ma era svariate posizioni alle sue spalle quindi quello lì l'unico punto in cui verstappen effetti a verstappen effettivamente è andata bene poi per il resto come dici tu tutte le situazioni ma anche quella del baren che è una situazione di pista gli sono andate male non ha avuto il momento no fortunato in cui in cui dice prova bene poi effettivamente come dice come dice andrea le bandiere rosse si sono un po pareggiate e l'errore di emilton sicuramente è un errore di emilton il problema che ha avuto con questo magic button quello che è è un fattore che ha giocato fortemente a vantaggio di verstappen però sono d'accordo con luca quando dice che se c'è un pilota che torna a casa eh con un po di di amaro in bocca quello non può che essere verstappen perché aveva una vittoria in mano e avrebbe senza quel problema lì incrementato eh sarebbe andato a più 15 su emilton o qualcosa del genere più 15 no eh era più uno sarebbe andato a più 12 però comunque voglio dire però insomma avrebbe avuto la possibilità poi è chiaro che eh quello che è successo a emilton è un colpo di fortuna per per verstappen quello è innegabile però colpo di fortuna secondo me fino a un certo punto perché comunque quel pulsante l'ha schiacciato lui l'errore è stato umano è chiaro che non è un errore in senso stretto che lui non ha sbagliato la staccata però centomila volte noi abbiamo detto è chiaro che quando parliamo dei piloti degli anni settanta questi avevano tre 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 pedali il cambio a manovella il volante e dovevi essere bravo a gestire questi eh cinque sei non lo so tool e e quello era cioè e quindi magari facevi veramente tempo staccando più tardi aprendo il gas prima ora invece un pilota Cristo è un astronauta quindi c'è il bravo pilota è quello che sa gestire quel computer andando a 350 all'ora e infatti vedi anche Mazepin eh sicuramente ora faccio una piccola parentesi non so se avete visto quel video in cui il suo ingegnere a Monte Carlo gli dice di cambiare una mappatura e lui dice non riesco non riesco poi succede la stessa cosa nelle libere a Baku lui ci riesce e dice eh we are not in Monaco anymore quindi non siamo più a Monaco riesco a fare quello che tu mi stai chiedendo di fare è chiaro che un pilota eccezionale riesce a fare quello che Mazepin non è riuscito a fare a Monte Carlo anche a Monte Carlo quindi il fatto che Hamilton abbia sbagliato un settaggio secondo me è un errore di pilotaggio purissimo tanto quanto girare il volante a destra anziché a sinistra non prendere la corda o mettere due ruote sull'errore sono assolutamente d'accordo con te eh cito ehm anche un piacere diciamo far interagire interagire con i nostri amici eh quello che ci scrive Davide che è questa frase una citazione di Hamilton perché lui io ti dico la verità quando ho sentito questa frase eh la traduco per chi non sapesse l'inglese è un campionato non è una cioè un questo campionato è una maratona non è una una gara sprint l'ha detta Hamilton pochi minuti prima di ripartire l'ha detta al suo ingegnere a Bono ho avuto l'impressione che a quel punto Hamilton sarebbe stato lì buono buono tranquillo eh pacato perché alla fine tutto sommato in quelle condizioni lì con un Verstappen fuori gara anche arrivare terzo anche arrivare quarto anche partire male sarebbe stato già un mettere in cascina un bel bottino di punti ehm quindi sono doppiamente sorpreso per per l'errore che ha fatto perché io quando l'ho letto anzi quando ho sentito la la il team radio mi sono ehm ho subito pensato che per Perez fosse quasi fatta no e invece usando un'altra famosa citazione è fatta e poi è fatta no quindi quindi sì sono sono rimasto sorpreso però come dicono anche i nostri amici da casa è vero che Hamilton sta facendo tanti errori eh non è lui ma sai Alberto eh probabilmente è frutto di questo campionato che che è tiratissimo e non vedevamo un campionato così tirato da tanto tempo per cui sono tutti lì al limite non non è come qualche anno fa eh quando magari o nel 2019 quando comunque la la Mercedes era qualcosina in più è vero che in determinate gare la Ferrari andava più forte però globalmente non c'è mai stata una vera partita per il campionato e quindi eh riesce anche a gestire le le situazioni in maniera diversa qua invece sai che ogni punto può essere quello decisivo ecco ne parleremo direi più avanti però sorge veramente il dubbio che questo sia l'avversario più forte che Hamilton abbia mai incontrato inteso come la squadra più forte contro cui Hamilton si sia mai scontrato e il pilota più forte contro cui Hamilton si sia mai scontrato poi possiamo parlare magari di Alonso quando ce l'aveva in squadra insieme ma Hamilton era un debuttante situazione molto particolare ma da quando Hamilton ha raggiunto una certa maturità direi che questo è senza ombra di dubbio il challenge più più importante di tutta la carriera e evidentemente quando arrivi da dietro forse un po' più facile quando sei affermato trovare qualcuno che ti venga a rompere le scatole ti può creare qualche qualche difficoltà in più però anche Mercedes e Hamilton formano un team eccezionale quindi mi aspetto che che tornino ad altissimi livelli già a partire dal prossimo Gran Premio abbiamo parlato di Sergio Perez che by the way ha vinto il Gran Premio e ha vinto il Gran Premio in maniera secondo me molto convincente anzi vorrei dire una cosa lui ha vinto e vabbè la vittoria chiaramente cosa vuoi dire bravo lui ma anche non avesse vinto in tutti i casi avrebbe confezionato la gara perfetta lui ha detto datemi cinque gare per capire come funziona la Red Bull e poi sarò più o meno ai livelli di Verstappen effettivamente a parte un in Q3 non brillantissimo Perez è stato sui livelli di Verstappen e ha fatto quello per cui Red Bull l'ha preso ha fatto quel salto in avanti rispetto ai vari Kvyat, Albon, Gasly e compagni cantanti quindi possiamo dire che il piano della Red Bull ha avuto la sua sublimazione in quel dibacco Luca cosa ne pensi? sì assolutamente anche perché come ha detto lo stesso Horner Perez in gara se non avesse avuto quel problema al pit stop che è durato qualche secondo in più del previsto sarebbe addirittura riuscito a rientrare davanti a Verstappen o lì quindi poteva addirittura quasi creare un problema a Max in ottica gara la cosa che forse ecco dobbiamo un attimo vedere allora Verstappen eh sì Perez è stato assolutamente di parola con la cosa della datemi cinque gare però Baku è una pista dove a la Red Bull andava fortissimo e b lui si è sempre trovato benissimo eh come dicevano i top e flop Baku sta Perez come i carboidrati stanno a Valsecchi perché sono veramente due cose unite in maniera da un legame saldissimo quindi aspettiamo di vedere un attimo come andrà su altre piste in altre situazioni prima di dire però sicuramente questo questo weekend Perez ha fatto proprio quello che la Red Bull vuole da lui e comunque si era messo nella posizione di rubare dei punti a Hamilton cosa che finora i secondi piloti non hanno ancora fatto eh però direi che Perez è stato assolutamente convincente dal mio punto di vista e salvo io e te siamo due grandi estimatori del pilota messicano francamente lì si tira anche un sospiro di solievo quando le tue impressioni vengono confermate non capita spesso eh tante volte ci dobbiamo ricredere vediamo delle situazioni un po' particolari però che Perez fosse un upgrade che Perez potesse contribuire alla causa Red Bull magari non in tutte le gare però se solo lo facesse nella metà delle occasioni beh il mondiale probabilmente prenderebbe una piega non dico decisiva ma comunque eh abbastanza importante a favore di Red Bull sì su Perez intanto l'abbiamo vista brutta eh però allora a parte gli scherzi eravamo abbastanza sicuri che Perez sarebbe riuscito a fare eh quel qualcosina in più che eh i Gasly era molto giovane e gli Albon non sono riusciti eh a dare ehm poi in effetti eh ho due perplessità la prima è comunque l'atteggiamento di Red Bull perché io oggi eh ho scritto un un articolo su Motorbox con che riportava anche le dichiarazioni di eh di Christian Horner dopo eh la gara di di Baku e Horner diceva eh sì ha fatto molto bene siamo tutti quanti molto sorpresi ehm addirittura è andato oltre le nostre aspettative io leggevo diciamo ma comunque non è che stanno parlando dell'ultimo arrivato anzi l'hanno preso proprio per questo eh e poi quando si è parlato di contratto ho detto eh però vediamo è una domanda eh relativa quella quella relativa al rinnovo è una domanda che avremo tempo a cui avremo tempo eh di dare risposta e anche lì mi mi sorge un po' il dubbio è anche vero che comunque loro in casa hanno hanno un Gasly che sta facendo benissimo eh per cui mi rendo conto anche eh che in questo momento non c'è fretta di di parlare di contratti di rinnovo però oggettivamente Perez sta facendo ha ha fatto quello per cui era stato preso la seconda perplessità è diciamo di carattere eh logistico diciamo così nel senso che come diceva prima Luca eh Baku eh e Perez è un binomio eh certo assodato è come Bottas a Soci ci sono quelle situazioni lì in cui il pilota rende sempre molto bene eh se riuscirà come? Massa Istanbul che vinceva sempre o Massa Istanbul esatto nel 2006 l'urlo famoso sì esatto esatto però ci sono delle situazioni ecco dovremmo vedere se riuscirà a eh vi vedo che siete lì che ridacchiate tutti i baffi non so cosa sta succedendo però eh tornando seri eh devo dire che eh le castellette sarà fondamentale perché se alle castellette Perez riuscirà a tenersi su questi livelli allora sarà possiamo sicuramente dare per certo che 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 Perez è arrivato dove doveva arrivare cosa ridere viceversa sarà un problema per lui riuscire a tenere il il sedile perché poi ripeto abbiamo un Gasly che è lì che sgomita sì ma a parte Gasly salvo secondo me eh Red Bull aveva bisogno di di un pilota esperto sapeva di dover andare all in in questa stagione eh onda lasciava Albon non era a livello hanno fatto anche fatica a trovare qualcuno da mettere in macchina a fianco di Gasly quindi probabilmente non si voleva nemmeno lasciare troppo sguarniti a livello di Alfa Tauri mettendo non lo so Tsunoda Kidiat piuttosto che Tsunoda Albon avrebbero potuto fare Tsunoda Albon eh il tema è che in questa fase noi stiamo vedendo che il programma Red Bull probabilmente ha ripreso a funzionare abbastanza bene perché abbiamo Gasly abbiamo Tsunoda abbiamo Verstappen è chi lo tocca quello eh ma in in Formula 2 abbiamo Lawson abbiamo Vips abbiamo da Ruval tutta gente che va e va forte e se qualcuno di questi dovesse effettivamente vincere il titolo di Formula 2 allora inizia a far dei ragionamenti sappiamo anche che Tsunoda è molto legata a Honda quindi si dovrà giocare il sedile in un'altra cioè coi risultati in pista non è semplicissimo io credo che se Perez dovesse fare bene e se loro dovessero in qualche modo riuscire a vincere almeno uno dei due titoli probabilmente lo riconfermeranno anche perché il 2022 sarà un'altra un'altra stagione abbastanza particolare abbastanza particolare servirà l'esperienza in quel caso esperienza eh fondamentalmente se vinci ha poco senso cambiare però vedremo ecco però chi di noi si sarebbe aspettato Horner che il giorno successivo a una vittoria di Perez la prima peraltro alla sesta gara dica no no lo riconfermiamo cioè sapevamo e sappiamo che probabilmente sarà una roba che se non arriva fino ad Abu Dhabi comunque arriva fino a settembre ottobre e anzi settembre sarei sorpreso di vedere un rinnovo di Perez a settembre quindi secondo me sarà una cosa che si giocherà tra novembre e dicembre Perez lo sa lo sapeva è lì sta dando un'altra chance alla sua carriera sta vincendo delle gare farà dei podi quest'anno quindi per lui comunque una stagione gratis una possibilità di di togliersi due o tre spizi lo sta facendo quindi direi win win situation per tutti allora io direi di andare avanti perché va bene che dobbiamo far passare una mezz'oretta prima che ci raggiunga l'ospite però rischiamo di arrivare effettivamente lunghissimi parliamo di mercedes sono in crisi e questa è la prima domanda che vorrei fare sono in crisi sì o no perché fondamentalmente cioè domenica emilton avrebbe potuto vincere o comunque arrivare secondo senza troppi patemi d'animo cioè se in pista lui avesse superato Perez chi si sarebbe stupito francamente era lì era lì quindi parliamo di crisi quando arrivi secondo boh a monaco comunque bottas sarebbe arrivato secondo quindi in realtà sì c'è una crisi perché stanno pasticciando però in linea di massima la macchina va poi magari non riescono a mettere insieme tutti i pezzi per essere sempre competitivi con entrambi i piloti sicuramente questa è la versione meno brillante di mercedes che abbiamo visto nell'ultimo periodo ma possiamo parlare di crisi per una squadra che effettivamente si qualifica sempre in prima fila che tutte le gare la possibilità di vincere di mettere un pilota sul podio cioè a me sembra abbastanza ingeneroso sì possiamo andare a considerare i vari errori ma emilton è arrivato veramente a una mezza staccata da vincere a baku quindi boh non lo so parlare ora di crisi che è un mondiale tirato non stanno dominando viva dio che non stanno dominando ci siamo lamentati per cinque anni del loro dominio non stanno minando non stanno minando bene così ma non è che direi che c'è una zona grigia molto ampia tra il discorso vinco tutte le gare faccio prima e seconda in tutte le gare oppure se sono in crisi volevo sapere il vostro punto di vista diciamo che secondo me che stanno mostrando dei segni di cedimento per quello che è lo standard a cui ci hanno abituati perché comunque è già successo anche gli altri anni che cappellassero un weekend in pieno sbagliassero il pit stop cosa poi erano abituati a vedere la gara successiva divorare gli avversari fare subito doppietta cancellare subito il pessimo ricordo della gara precedente questa volta quest'anno tra monte carlo e bacù non è successo si sono ripetuti errori una volta del team una volta del pilota ci sono segnali nervosismo una situazione di bottas emilton che fa un errore che non si vedeva da tempo wolf che sembra più impegnato a scannarsi con horner che a seguire la squadra come fa di solito sono tante piccole cose che messe assieme per una mercedes che non è neanche abituata appunto a proteggere un rivale così forte possono portare a dei risultati negativi dire crisi effettivamente troppo è una crisi alla mercedes diciamo quella della feria l'anno scorso era una crisi che portava la squadra a un certo livello rischiare di non qualificarsi in p3 la crisi della mercedes avere un pilota che fatica ai bordi della top 10 e quello di punta che non vince più tutte le gare non fa più tutte le poll e commette degli errori sono d'accordo sì secondo me poi in maniera un po colorita comunque roby riassume ovvio che parlare di crisi in senso totale è sbagliato è comunque il team che si sta giocando il campionato è comunque il team che ha pochi punti di ritardo da chi ha la leadership che red bull però è vero che dal punto di vista prestazionale non sono sui livelli dell'anno scorso ci hanno abituato male da questo punto di vista qui ci hanno abituato a dominare su ogni pista quindi vederli un po così boccheggiare su due piste simili ma in realtà molto diverse come monaco e e baku fa specie ora sono molto curioso penso sia la prima volta che arriviamo a alle castellè con questo livello di curiosità perché effettivamente arriviamo alle castellè che siamo veramente abbiamo ne abbiamo già pieni non dico cosa però sapete si arriva a un circuito che tendenzialmente non è bello non regala grande spettacolo eccetera in realtà quest'anno sarà molto interessante intanto per capire se mercedes su una pista che torna a essere una pista tradizionale quindi una pista diciamo simili barcellona con dei curvoni molto veloci riuscirà a ritrovare quello che ha perso perché adesso parliamo di una mercedes in crisi ma fino a tre gran premi fa parlavamo di mercedes che era che era nel pieno controllo del mondiale perché emilton aveva dominato vinto facilmente il gran premio di spagna e verstappen sembrava lì appeso un po il pugile non ancora ko ma che si stava che era lì pronto a crollare per cui sarà veramente interessante quello che succederà in francia perché torna a essere una pista tendenzialmente normale tendenzialmente favorevole a mercedes io credo che lì saranno di nuovo loro sarà la squadra da battere ecco assolutamente e un flash velocissimo su bottas ragazzi secondo voi è arrivata al capolinea o c'è ancora speranza di redenzione ma come come dicevi tu prima a monte caro alla fine stava per arrivare secondo quindi insomma a livello di risultati non è pessimo come può sembrare uscendo adesso da baku se prendiamo la situazione nell'insieme secondo me stiamo già arrivando al separato in casa perché appunto come dice anche davide questo commento cioè il come è stato gestito il primo al pistobio di monte carlo con la mercedes che diceva probabilmente colpa di bottas che è arrivato lungo nella piazzola c'è potevano evitarsi o poi queste voci sul fatto che la mercedes pare gli abbia comunicato il ben servito per l'anno prossimo tutto fa quindi la vedo più in peggioramento che in miglioramento sì beh prima dopo sarebbe dovuto arrivare questo momento e arriva nell'anno in cui ci sarebbe più bisogno che non arrivi però esatto 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 quindi forse non gestita benissimo potevano vabbè non sappiamo effettivamente cosa si siano detti quindi fa ancora più male per lui che arrivi in un weekend in cui in realtà l'altro secondo ha fatto benissimo perché finché fino a monte carlo c'era un po quel discorso lì per cui si emilton e verstappen stanno overperformando rispetto ai due rispettivi compagni di squadra per cui nessuno dei secondi toglie punti al rivale va bene così ma qua evidentemente c'è rischia di far saltare il tavolo però ecco mettiamo i puntini sulle weekend peggiore della carriera di bottas o qualcosa di molto vicino da un punto di vista prestazionale si è messo dietro un sette volte campione del mondo quindi la storia ricorderà che a baku 2021 tale valteri bottas tillandese si è messo dietro emilton lewis carl e facciamo così in previsione degli europei allora ragazzi chi è risorto miracolosamente adesso devi fare devi fare penso tre tre ore di trasmissione auto flagellandoti col ciclo esatto esatto sebastian vettel che arriva secondo sembra di aver sembra aver capito come funziona questa son martin faccio la mia culpa non me l'aspettavo così brillante visto quello che era successo negli anni scorsi perché mi lasci così in primo piano proprio perché devi fare ammenda però anche tu dovresti fare lo stesso tipo di ammenda quindi c'è stai attento sì ho messo una cena su sul buon sebastian per cui però stai ancora perdendo te lo ricordo quindi allora allora no me ha fatto le ultime due gare è stato è stato veramente quello che ci si aspettava che vettel avrebbe dovuto fare nel senso è stato preciso puntuale veloce solido è arrivato secondo quindi cosa gli vuoi dire e tra l'altro anche in pista si è comportato con una certa grinta perché la posizione sulle clerk se l'è presa probabilmente diciamo la verità in gara stone martin era superiore a ferrari non di moltissimo ma era superiore a ferrari purtuttavia partiva undicesimo arrivato secondo bravo e vi aspettate la domanda vera è questa vi aspettate che vettel possa continuare su questa falsa riga o ritenete che per come è stata per la peculiarità del gran premio di baku questa è la classica rondine ma non è detto che sia arrivata la primavera beh la stone martin vado io salvo la stone martin gli ha dato un bel supporto in queste in questo weekend perché comunque si è dimostrata una vettura a suo agio su questi tracciati quindi ha avuto anche quello sicuramente esce da questo weekend psicologicamente rilanciato e questo soprattutto per te l'abbiamo visto l'anno scorso ha un peso enorme se lui in fiducia sicuramente va molto meglio di quando le cose vanno male adesso serve appunto la prova del nove però come hai detto tu è appare risorto e adesso stavo notando che comunque lui nell'anno dei 33 ne fa 34 luglio quindi alla fine forse avremmo dovuto capire da subito che sarebbe risorto esatto poi il tema fondamentale qua è il fatto che lui corre senza pressione non è che deve andare a podio tutte le gare però quando quelle tre quattro cinque volte all'anno per sua ispirazione perché la macchina funziona su quella pista per magari le vicissitudini che ci sono in pista riesce a portare a casa tanti punti bravo quando non farà bene bon basta nessuno andrà a vedere cosa ha fatto vettel sulla stone martin sì magari arriva a decimo dodicesimo that's it però quando arrivi secondo sono solo applausi quindi bravo lui è molto bravi in aston martin perché due gare consecutive che di strategia portano avanti i due piloti e da questo punto di vista sono stati veramente eccezionali quindi bravi bravi dobbiamo andare a cesare qualche di cesare salvo sì sono d'accordo sulla strategia sono d'accordo su fette sul discorso della pressione che evidentemente non ha e questo di sicuro è un bene diciamo che fette l'abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni e abbiamo visto che in determinate condizioni non è diciamo non 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 performa al al meglio però devo dire che anche l'anno scorso in condizioni difficilissime aveva fatto in alcuni casi e le gare molto belle mi viene in mente non soltanto turchia perché poi quello lì è l'unico podio che ha fatto per cui è l'highlight però mi viene in mente imola 2020 in cui stava facendo una gara pazzesca un po simile a baku perché aveva messo un treno di gomme differente aveva allungato il primo stint stava recuperando proprio sul passo gara poi al pit hanno perso una gomma hanno avuto un pit lentissimo per cui è stato di nuovo ricacciato indietro però ecco questo tipo di gare qui sono nelle corde di sebastian c'è uno che quando c'è da far due alla gomma da da diciamo da da amministrare in un certo modo è molto molto bravo e poi sicuramente monaco gli ha dato quello quella spinta di fiducia nel frattempo un po come perez ha anche trovato anche un po preso le misure con una macchina molto diversa per cui adesso io mi aspetto sinceramente che per lui la stagione sia chiaramente non da un podio a gara però sia decisamente migliore di come è stata fino a monaco ecco beh ma ci siamo detti la ston martin peraltro era troppo brutta per essere vera forse hanno capito anche loro un pochino come rimettere a posto le cose dopo magari una partenza un po difficile tra i test in barrenne le prime gare chiaramente mercedes ci ha messo 15 giorni loro non hanno lo stesso tipo di risorse di uomini quindi probabilmente ci ha messo qualche qualche settimana in più ragazzi parlerei di un'altra resurrezione perché visto dove erano l'anno scorso secondo me non si può usare un termine differente e parliamo di ferrari perché comunque hanno fatto quarti in una gara molto complicata e hanno fatto la seconda pole di fila con le clerk quindi secondo me il weekend di ferrari va rubricati in maniera assolutamente positiva salvo so che ci siamo un po confrontati rispetto a quello che sarebbe potuto dovuto essere il risultato in gara tu ritieni che non abbia raggiunto il risultato che avrebbero dovuto raggiungere ti chiedo perché poi magari rendiamo pubblico quello che è stato un po' al nostro ragionamento guarda noi abbiamo fatto cos'abbiamo fatto la diretta insieme sabato pomeriggio dopo le qualifiche domenica sabato pomeriggio dopo le qualifiche ci siamo abbiamo fatto la diretta su instagram come al solito ci siamo detti ma cosa ci dobbiamo aspettare dalla ferrari l'attesa è che le clerche un po' come a monaco sia in grado sarebbe stato in grado a monaco di vincere la gara o comunque di essere lì in lotta per il podio sinceramente no mi aspetto guardando anche quelli che sono stati passi gara che emilton e verstappen e ne abbiano di più e perché no anche perez che parte settimo e che avrebbe avrà la possibilità di recuperare vedo che è arrivato max papis quindi fermiamo tutto facciamo entrare il nostro ospite max buonasera grazie per essere con noi un saluto a tutti ragazzi bello essere qua con voi telefonata settimanale con con la indica abbiamo finita un po prima quindi felice di essere riuscito arrivare qua con voi max avete finito prima soltanto per noi no sapevano tutti che tu hai questo impegno è cento per cento presidente della indica jfri ha detto fermiamoci so che max deve parlare in italiano basta benissimo allora max noi stavamo parlando poi dopo arriveremo subito a trattare con te i temi che ti sono più cari più vicini quelli della indica comunque tu hai avuto un passato anche in formula 1 stavamo parlando della situazione di ferrari che a bacco hanno ottenuto la seconda pole position consecutiva è chiaro da ferrari ci si aspetta sempre che possano salire sul podio fare risultati importanti però visto quella che era la situazione lo scorso anno possiamo parlare di un significativo passo in avanti non so tu come hai seguito la stagione di ferrari l'anno scorso e come stai vedendo questi tiepidi miglioramenti ritieni che che siano sulla strada giusta o o non li vedi ancora esattamente dove dovrebbero essere guarda fare commenti è sempre difficile dall'esterno ed è anche quasi ingiusto fare dei commenti senza sapere quello che succede dentro la cosa che vedo che con grande ammirazione vedo binotto che intiene sempre ha una flemma e una visione delle cose a lungo termine che è una cosa non facile in un ambiente con un ambiente italiano e ovviamente il perché sono in questa situazione solo loro lo sanno e solo loro lo sanno e noi possiamo solo speculare la cosa che si vede è che sicuramente c'è un grande lavoro di team e peccato che se basta un betel ne abbia fatto le spese detto in poche parole ma alla fine vedo vedo veramente una grande intenzione di la maniera di binotto di tenere il team unito di non mettere una persona contro l'altra e questa è l'unica maniera per per ritornare in alto senza cambiare ci sono due maniere o fai quello lo fai così dall'interno oppure pulisci il tavolo mandi via la gente e li rimetti la gente nuova ma se lui sta facendo questo vuol dire che ha fiducia nelle persone che lui ha e fare dei passi indietro è facile nel senso in un ambiente così competitivo fare un passo a lato fare un passo a lato vuol dire fare un passo indietro quindi quello che vedo è che non fai le pole position per caso e senza dubbio senza dubbio loro hanno fatto un grandissimo lavoro quest'anno è chiaro partivano talmente tanto indietro che riuscire a chiudere il gap con mercedes red bull sarebbe stato molto difficile anche in generoso da parte della stampa dei tifosi e degli addetti ai lavori sarebbe ingeneroso chiedere una cosa del genere però abbiamo visto degli importanti passi in avanti abbiamo parlato di pole position abbiamo parlato di qualifiche max io volevo subito chiederti una cosa è la seconda qualifica di fila peraltro coincisa con la seconda pole position di leclerc di fila che la q3 si conclude in regime di bandiera rossa sappiamo che in america le cose sono un pochino diverse quando un pilota causa una bandiera gialla una bandiera rossa poi magari tu sicuramente riuscirai ad essere più preciso viene penalizzato gli viene tolto il tempo in qualche misura si cerca sempre di far concludere le qualifiche in una maniera normale ritieni dal tuo punto di vista che l'approccio della indica sia qualcosa a cui formula 1 dovrebbe guardare allora che loro debbano guardare o no alla fine è il loro lavoro come ti ho detto non guardo mai in casa degli altri a dire guarda la tua torta è meglio della mia o cose così la cosa che ti dico è che nel formato che abbiamo noi di indica funziona molto bene e le regole le abbiamo modificate parecchio da quando siamo da quando io a rilenda siamo siamo arrivati a fare due due steward in indica e tutta una filosofia completamente diversa tu pensa per me rari è un lavoro lo steward nel senso siamo siamo pagati per farlo siamo tutte le gare arriviamo il venerdì prima della gara non è un volontariato quindi ed è una cosa che è stata istituita così direttamente dal presidente della indica per dare per dare un cambio a quello che c'era prima in indica dove prima c'erano vari personaggi più o meno più o meno con le caratteristiche giuste per fare un lavoro che è importantissimo perché lo steward non è solo il poliziotto che arriva e fa le regole impone regole ma lo steward è il catalista tra come o come facciamo noi negli stati uniti tra competition e campionato tra piloti e campionato quello che noi facciamo abbiamo due un cappello diverso usiamo io dico sempre siamo dei consiglieri prima della gara siamo parliamo con ogni pilota parliamo con quando vediamo degli episodi andiamo parlare durante le prove perché ovviamente noi non sanzioniamo le prove perché sono appunto chiamate così prove libere noi iniziamo a implementare le regole da quando inizia il da quando inizia la qualifica qualifica warm up e gara quindi il nostro il le prove libere sono appunto per provare e anche per fare degli errori le regole che abbiamo fatto noi sono diverse quando sono arrivato c'era una regola dove quando causavi una bandiera gialla durante le qualifiche perdevi il il tuo giro veloce non indipendente da quando quello era fatto la regola adesso che è stata cambiata è perdi il tuo giro veloce fino a quel momento lì o se non ancora fatto il giro ci fai ci dai un drive thru nel pit lane questo l'abbiamo fatto perché due anni fa con scott dixon a detroit uscito dal pit lane primo giro gomme fredde nel rano feria fermo girato bandiera gialla ovviamente bandiera gialla vuol dire per gli altri attenzione sicurezza rallenta han tutti hanno fatto questo lui ha fatto quello che doveva fare rientrato in maniera corretta ma aveva postato sei quattro volte un tempo che l'avrebbe potuto far avanzare nella catena nel youtube nel q2 e non era stato potuto fare quindi quello che abbiamo fatto abbiamo chiamato la regola dicendo paghi l'errore fino al momento che paghi l'errore in nel momento in cui è successo se hai la possibilità di continuare ti diamo ancora la possibilità di migliorare per quanto riguarda la bandiera rossa è completamente diverso noi abbiamo delle regole super ferree per la qualifying interference vuol dire se tu rallenti un altro pilota perdi i tuoi i tuoi i tuoi due giri più veloci e non si è permesso di avanzare e se causi una bandiera rossa perdi i durante il segmento perdi i due giri più veloci e non può avanzare e se succede nell'ultimo nel q3 perdi il tuo giro più veloce questo fatto perché per due motivi uno per spingere la sicurezza dove non vogliamo che piloti frustrati cercano di passare nella bandiera gialla dove ci sono persone stanno lavorando sulla macchina secondo perché bisogna premiare premiare l'eccellenza e se fa un errore perché devi portare a casa i benefici quindi ma funziona per noi perché il nostro format di qualifica è corto velocissimo non so se può sia una cosa che possa funzionare in f1 quindi è anche non è anche non è anche il mio compito commentare su questa cosa qua so che funziona bene con le nostre regole con le nostre macchine con le nostre piste che sono piste completamente diverse ecco max di sicuro è una poi sono regole in cui è necessario trovare un compromesso voi lo avete lo avete fatto voi da voi funziona bene così non è detto effettivamente che che possa funzionare lo stesso modo in formula 1 io la ti volevo chiedere anzi guarda ne approfitto per far partecipare i nostri amici che ci seguono leggo la domanda di di robbie perché secondo me è interessante anche se immagino che la risposta io la risposta la risposta la immagino già robbie chiede se anche tu ti becchi le critiche dei tifosi quando c'è magari qualche penalità immagino che in questo caso alle critiche feroci che si è beccato emanuele pirro quando quella volta li ha dovuto penalizzare fettel in canada robbie sì e no per due motivi uno perché abbiamo stabilito un rispetto con i competitors con i nostri piloti dove le regole sono chiare sono le stesse siamo gli stessi steward che amministrano le stesse regole da cinque anni quindi la consistenza è la base del fatto di non essere criticato e quando le regole sono chiare ovvio che uno può avere può avere un'opinione ma se la regola è chiara e la sai e la applichi e sei consistente con la regola puoi solo essere può essere disaccordo con la regola ma se sei consente se sei consistente fa la stessa cosa con tutti i piloti alla fine ti elevi un po dal fatto di essere non sei tu che hai voluto iniettare la tua soggettività in una cosa ma è la soggettività è nata prima nel costruire la regola quindi la verità è che ben poche volte ci sono state delle critiche dove non sono stato dove non è stato chiaro spiegare il perché la cosa era stata fatta è chiaro è detto nella maniera giusta sì 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 è chiaro chiarissimo sentiti faccio un'altra domanda cambiando un po argomento tu poco fa hai spiegato ai nostri amici italiani il fatto che in indicare ci siete ci sono due steward che seguono tutto il campionato informa lo sappiamo che non è così è diverso adesso senza stare lì a dire chi è meglio cosa è meglio cosa cosa è peggio cosa che immagino non farà non faresti però la domanda che ti volevo fare in che modo pensi che questa questo essere sempre lì sempre voi sempre gli stessi possa essere un vantaggio in che modo magari uno svantaggio ti posso rispondere semplici semplicissimamente non sarai capace di fare quello che sto facendo presentandomi tre volte all'anno sarebbe impossibile per me ok senza avere senza avere senza avere la storia di quello che facciamo il perché lo abbiamo fatto nel passato il rapporto con i piloti il rapporto con i team manager sarebbe per me non io non è una cosa che io non farei perché non sarei capace di farlo in maniera in maniera in maniera oggettiva perché ti metti in una posizione dove è troppo poco ai troppi pochi sempre il perché penso che la cosa sia stata cambiata specialmente in indicare perché alla fine il race control non deve essere parte delle discussioni del dopo gara e la cosa di cui sono orgoglioso è che pian pianino siamo ci siamo tolti da essere da essere discussi del proprio del dopo gara e l'abbiamo lasciato i nostri i nostri competitor parte del del discorso quindi decidere una cosa meglio dell'altra la cosa che ti posso dire che io non sarei capace di farlo ok max invece un altro episodio che è successo a questo weekend a baku ha riguardato la sospensione della gara quando mancavano due giri al termine dopo l'incidente di verstappen i piloti erano dietro la safety car la direzione gara ha deciso di sospenderla e poi di far ripartire con appunto ancora due giri da da percorrere con una partenza da fermo nella indicare cosa cosa sarebbe successo in caso del genere noi abbiamo rolling star star quindi il nostro il nostro lavoro è più facile è più facile è difficile la cosa che cosa ecco che mai che ci sei la cosa la cosa che è da dire che è importante questa senza avere tutti gli elementi che noi abbiamo nel race control per capire sicurezza la capire i problemi che le varie vetture hanno la pista può essere pulita non è pulita quello che è e è difficilissimo dare un'opinione quello che ti posso dire sicuramente è che è compito di qualsiasi sanctioning body di cercare di finire la gara sotto bandiera verde ed è una cosa che noi anche noi facciamo nel senso se ci fosse abbiamo una situazione che si chiama abbandono delle procedure dove arriviamo un certo momento durante la gara dove non riposizioniamo i doppiati dove non apriamo il pit lane dove facciamo certe cose per velocizzare la bandiera gialla per ripartire la gara da quello che non ho abbastanza elementi per capire ma vedendo un po dall'esterno sicuramente sai quando paghi un gara non vuoi andare a vedere la gara sotto giallo e forse forse questo è una delle ragioni anche del fatto che la gara è stata fermata e rifatta ripartire è difficile dirlo da qua perché non ho abbastanza elementi però alla fine la cosa importante è quando bisogna guardare le cose da un punto di vista di intrattenimento lo sport è intrattenimento la competizione tra le persone che sono dentro nell'ambiente quindi bisogna avere sempre questo bisogna avere questa visione dove alla fine il perché tutto esiste è perché ci sono gente che viene a vedere che paga biglietto che guarda la televisione scusate non so come mai ma c'è gente che guarda la televisione che compra biglietto e che paga il tuo stipendio sì ecco a riguardo appunto mi ricordo che secondo me è anche una cosa in cui un po la formula 1 si è spostata nell'ultimo periodo questo ragionamento che stavi facendo perché mi ricordo abbiamo visto gare invece che si sono concluse con la safety car che è rimasta fino all'ultimo giro i piloti praticamente sono un po' andati imparato sotto la bandiera scacchi ed era il destino della gara di questa domenica invece vi ho perso a noi ti vediamo e sentiamo ci senti max va bene speriamo che max si riesca a ricollegare però effettivamente luca è correttissimo quello che dici l'idea e mi è sembrata abbastanza chiara era quella di far sì che arrivassero sulla bandiera scacchi eccoti max ci senti sì sì non so dove mi avete perso ma ok ma stavamo ragionando su quello che avevi detto dello spettacolo e appunto la formula 1 una volta forse questo avrebbe dato meno peso perché è già successo che la gara finisse in regi safety car negli ultimi anni soprattutto dall'arrivo di liberty media invece si fa più attenzione a questo appunto si cerca di finire la gara con una vera competizione e quindi anche domenica una gara che sarebbe stata destinata a finire con la safety car è stata invece sospesa e fatta ripartire per concluderla con la vera competizione ti posso solo dire una cosa nel nel nostro race control l'obiettivo numero uno è finire under green tutto verde sempre sempre qualsiasi cosa uno possa fare questa questa è una cosa ogni tanto succede che finisce in sotto giallo ma non non perché non si è provato tutto max allora facciamo un passo indietro di di una settimana e parliamo di quanto successa la indy 500 elio ha vinto è stata una una gara fantastica elio che peraltro è quasi tuo coetaneo quindi poi va bene te ora hai un altro lavoro però non non so se 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 ogni tanto ci fai un pensierino a tornare dentro il volante a correre non mi non mi sono non sono in pensione per niente quindi quindi ci fosse la possibilità di correre un'altra indy 500 e ci penseresti magari ma sicuro l'anno scorso sono sempre attivo non so se avrei il coraggio di di rimettermi in campo nel nel massimo livello delle corse come la indy 500 ma sono sono non sono non mi sono ritirato anche perché poi effettivamente è bellissimo elio poi ha vinto usando praticamente una wild car perché lui non corre tutto il campionato ed è molto bello che dei piloti che comunque hanno fatto la storia delle corse ma un paio d'anni fa l'onso poi quest'anno elio che comunque l'ha sempre corsa anche mi sembra danica patrick molto molto amata negli stati uniti ha fatto magari dei one off simona del silvestro quest'anno eccetera eccetera capita spesso che comunque piloti blasonati abbiano la possibilità di correre uno due gare durante la stagione e si possano mettere a competere con tutti gli altri secondo me è una cosa molto interessante molto bella e il fatto che ci sia un po di come possiamo dire di travaso di talento da una categoria all'altra secondo me rende le cose davvero davvero molto interessanti ma la cosa che ti posso dire è che indy 500 un evento più grande di qualsiasi pilota di qualsiasi team è l'evento tu sei parte di un evento è la indy 500 che ti crea non è il contrario quindi la cosa bella che abbiamo visto con la vittoria di castroneves non è solo elio che ha vinto che abbia vinto ma il fatto che chi il team che ha vinto una squadra è come se è come se la haas formula 1 avesse vinto il gran premio di monaco detto in poche parole è una squadra che ha iniziato tre anni quattro anni fa hanno fatto le cose con grande umiltà sono cresciuti passino per passino e hanno hanno attirato le persone corrette hanno fatto le scelte giuste e di far capire che l'obiettivo che vogliamo che vogliamo del mondo nostro di indycar è per vedere che è un mondo accessibile ed è un mondo dove è un mondo accessibile dove come ti ho detto prima ha vinto ha vinto un piccolo team un nuovo team che non è esatto dire piccolo nuovo team contro questi giganti che sono nel mondo delle corse da anni e anni quindi è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso perché fa vedere che c'è ancora possibilità allora noi nella scorsa puntata abbiamo parlato di tre gare iconiche monaco monte carlo che a cui è accennato anche tu adesso le man che sappiamo che tu hai corso e la indy fa bandere che di nuovo è una tua conoscenza abbastanza eh abbastanza familiare sono tre gare iconiche non torniamo sull'argomento ma già l'hai un po accennato io e te peraltro un paio d'anni fa ci siamo anche incontrati a indianapolis però sicuramente tu lo puoi spiegare meglio di quanto non abbia fatto io cosa rende veramente speciale unica e inimitabile la la 500 mila di indianapolis la sua storia la storia dell'evento la la chi chi ha vinto prima di te eh quanto l'evento sia importante non solo per il mondo delle corse ma per la città per anche per gli Stati Uniti quindi come ho detto prima ci sono pochissimi eh eventi eh dove ti senti eh dove dove capisci che l'evento la gara è più grande di te le man sicuro l'ho fatta e allo stesso un feeling molto simile del di quello di di indy 500 sicuramente la regina è indy 500 eh anche perché è un evento che dura nel nel tempo nel senso un evento che dura più di una settimana quindi mh ci sono tantissime attività che girano intorno a quello eh e poi anche Monaco è sicuramente importantissimo eh per la sua storia ovviamente eh quindi eh quindi hanno hanno tante cose comune. Max io ti riporto una domanda che vedo che ci ha fatto Lorenzo eh se c'è la possibilità nel futuro che ci sia una maggior sinergia tra indicare Formula 1 per permettere magari i piloti di uno dei due campionati cioè in questo caso ubicato ai piloti di Formula 1 di partecipare a 200 miglia. Ah su questo eh ho ho letto la volontà di tenere il weekend aperto e sai correre in indy 500 non è per tutti eh eh sì. Entrare nella curva 1 a 385 all'ora col piede giù in qualifica mh ci vuole un po' più di un assegno per fartelo fare. io so che è una persona come ho conosciuto Fernando e l'ho ammirato tantissimo c'è una passione per le corse incredibile eh e e sicuramente ha fatto vedere che è possibile ma sicuramente eh in dici questo evento eh è una gara particolare eh dove eh se sbagli la staccata in una pia a Le Mans c'è il runoff area nella curva 1 c'è il muro ma sì eh Max eh non so se abbiamo ancora tempo per un'altra domanda o se devi andare. Ho ancora un cinque minuti perfettissimo. Ok allora io eh tornerei sulla sempre sulla gara di di domenica scorsa eh perché effettivamente mi è parso che ehm sia stata una gara molto lineare forse troppo lineare rispetto alla storia recente della della 500 mila di Indianapolis una gara bellissima poi c'è stato il duello finale intenso spettacolare tra Elio e Palù ehm però ecco ci sono stati rispetto al passato ecco pochi errori gli unici che abbiamo visto abbiamo visto i box quindi ti volevo chiedere è qualcosa di correlato con le macchine? cioè queste macchine sono diventate molto sicure super sicure ma forse sono anche chiedo a te che ne sai molto più di me forse troppo più facili meno ti inducono meno all'errore qual è il motivo? No non è il contrario è il fatto che eh le vetture sono difficilissime da guidare sono al limite dell'aderenza eh per far capire a chi sta sentendo. si va a fondo quattro giri solo in qualifica durante la gara forse un giro ogni tanto con le gomme nuove eh se sei davanti eh ma non è facile eh nel senso se avete visto Elio Linker Camera quanto tirava via piede scalava nella curva uno tre eh la cosa è che quello che avete visto è il fatto che eh noi è un po' quello che c'è dietro la filosofia dietro la Indycar. negli ultimi cinque anni abbiamo cercato di premiare l'eccellenza. Cosa vuol dire? Eh anche le squadre eh minori hanno lavorato sulle loro vetture eh il fatto che c'era dal primo al trentesimo li potete vedere quasi su tutti su rettilineo è il fatto che eh sono veramente bravi eh sono veramente bravi eh il livello è altissimo eh è altissimissimo. guarda eh guarda eh guarda il fatto che non so un willpower abbia quasi sia quasi andato a casa dalla Indy500 ha rischiato di non qualificarsi e e non è per mancanza di preparazione. ovviamente le vetture si stanno evolvendo eh eh avremo bisogno ci saranno ancora delle cose nuove una volta ci sarà un po' più di potenza nel prossimo paio di nel prossimo paio di anni vedrai un evolvers delle vetture e un forse un un aprirsi un po' tra le performance delle varie delle varie eh delle varie macchine ma per per risponderti è eh non è stato un livellamento verso il basso è stato un livellamento verso verso l'alto verso l'alto e questo e questo lo vedi anche eh lo vedi da quanto competitivo era eh ovviamente quando tu sei lì vicino la differenza sono piccole eh non sono così evidenti come forse erano cinque sei anni fa quando la gente conosceva meno le vetture eh e adesso eh è compito sarà il compito nostro continuare a mettere un po' di eh al il nostro moto in indicator è eh fast and loud veloci e rumoroli fast and loud sono le tre cose che usiamo sempre quindi eh pian pianino stiamo arrivando eh ci saranno tante novità che 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 premieranno ancora di più i grandi campioni eh e che renderanno sempre di più le macchine complicate da guidare a livello di pilotaggio dove i migliori i migliori piloti sono sono quei saranno quelli che eh saranno premiati eh saranno premiati eh aeroscreen in qualche modo ha impattato sulla facilità o difficoltà? è una cosa che sicuramente l'aeroscreen è un è una cosa incredibile eh con con l'aeroscreen è tanto importante quanto l'avvento della Hans Device eh con l'aeroscreen ci sono eh Dan Weldon e tre o quattro dei miei amici sarebbero ancora qua eh è una è una cosa che ha completamente eh aumentato la sicurezza nelle vetture sempre mantenendole sempre mantenendo il fatto che siano vetture difficili e non è uno sport pericoloso ma eh darà la possibilità a piloti che forse nel passato non avrebbero voluto o non avrebbero rischiato eh tanto eh di vederli correre nei 500 quindi eh sicuramente ha aiutato tanto poi vedo tanto la Red Bull che ci ha aiutato nel nel costruire l'aeroscreen eh c'è un c'è un orgoglio incredibile nel nel in quello che è stato fatto quindi è una cosa è una sinergia che tutto il paddock ha voluto eh eh le macchine hanno ancora hanno ancora una silhouette interessante ma la sicurezza è cambiata in maniera imponente quindi alla fine questo le cose bisogna evolversi mantenendo mantenendo la propria storia e penso che questo l'abbiamo fatto pian pianino Max noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi a Radio Box sappiamo che hai un'agenda molto molto impegnata quindi grazie davvero e auguri per il tuo lavoro in Indicar e per qualsiasi attività porterai avanti nei prossimi mesi grazie ancora grazie mille adesso già che siamo qua eh per spiegare un po' dove siamo eh dove siamo sono nel nostro ufficio nel mio ufficio di MPI MPI è la mia azienda di volanti che ho fatto partire da zero stiamo market leader negli Stati Uniti eh dove eh quattordici volte campione di NASCAR due volte campione di Indicar eh tre volte campione di V8 Supercar ed è un po' ed è nata dall'ispirazione che Giampier ha dato quando ha iniziato a correre per lui eh nel 96 quindi eh tutti i volanti fatti in Italia che vincono qua in America ed è un grandissimo questo è una delle cose che volevo dirvi perché in modo da capire dove uno dice perché 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 è seduto in un ufficio per questa cosa ce l'hai ce l'hai lì un volante a farci vedere Max eh al 100% questo è il nostro nuovo volante che abbiamo costruito per Audi nel WTCR allora Max Max devi stare attento perché secondo me qua Salvo te ne chiede uno per fare sim racing eh abbiamo abbiamo tutta una linea di volanti simulatori e abbiamo tutti i nostri volanti eh vincitori nelle gare di NASCAR sono anche volanti costruiti per simulatore perfetto perfetto e tutti tutti fatti tutti fatti a Verona allora se vedi che ti arriva una telefonata da da un numero che non conosci probabilmente salvo che che si vuole mettere d'accordo per 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 fare un deal con te e comprarti l'evo va bene eh eh si chiama MPI Max Pappis Innovation non NPC Max Pappis Charity chi deve capire capisca ecco un bel espressino vi ringrazio volevo eh prendere l'opportunità per salutare tutte le persone in Italia che ascoltano eh ovviamente sono tantissimi anni che eh non posso competere non ho non ho non ho corso in Italia ma come sentite sono sono il mio cuore italiano sono 100% italiano sono 100% italiano sono venuto qua in America per per raggiungere i miei successi ed è un orgoglio poter rappresentare il nostro paese qua negli Stati Uniti quindi eh prima o poi eh più prima che poi ritornerò a casa ma per il momento state sicuri che c'è una persona eh con un grandissimo orgoglio italiano sia con la mia MPI che con il lavoro di Stuart poter essere scelto per fare delle cose così eh in un ambiente eh in un ambiente eh in un ambiente in un ambiente straniero vuol dire che eh siamo apprezzati tanto quindi è una cosa che voglio dire a tutti i ragazzi a casa perché è una è una delle cose di cui ci tengo di più il fatto di non essere una persona americana ed essere ed essere stato inserito in un mondo eh che di solito non è per gli stranieri. bene grazie grazie davvero e a prestissimo Max se passi dall'Italia chiaramente faccio un fischio e saremo ben lieti di offrirti un caffè anzi salvo te lo fa pagare perché non è salvo sardina charity ma dai ciao Max un abbraccio a prestissimo ciao 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 va bene siamo rimasti noi tre ragazzi eh salvo devi pagare se vuoi il volante di Max pagherò pagherò esatto pagherò allora allora eh manca la rubrica più importante di Radio Box quindi ti chiederei di mandare la sigla e poi a Luca Manacorda di procedere con le formalità ma per caso è la sigla più amata da grandi e piccini? eccoci quindi nella rubrica appunto per grandi e piccini che è Meme Box e però io volevo dirvi una cosa pensavo che Max sarebbe rimasto con noi e quindi volevo fare l'angolo di Meme Box fatto tipo Sarabanda visto che comunque lui una volta conduceva Sarabanda era lo storico conduttore no? aspetta un attimo aspetta oh ok perfetto lo facciamo noi riesci a farlo te? questa era brutta eh ma guarda che comunque Enrico Papi se la lunga fa ridere ci vuole un po' ma poi si arriva non so arriva un attimo dopo ma quando arriva arriva come Mazzopi un po' tardi ma poi quando arriva ma a proposito di cose che quando arrivano fanno ridere andiamo a vedere quindi la classifica dei migliori meme del weekend del weekend del GPZ tra l'altro è stato un weekend anche secondo me pregno di meme molto però infatti ho dovuto potare un po' se non finivamo domani mattina alle 11 quindi noi ho selezionati 8 partiamo dunque all'ottavo posto con questo meme di parlare italiano la wolf con questo Vettel che tira l'orecchio un po' così beh cos'è che state dicendo? ed è praticamente la rappresentazione di quando a 40 anni tua madre ti dà del fallito ma tu trovi lavoro a McDonald's che tutto sommato quei tempi di che corrono voglio dire ci sta anche esaltarsela così alla Vettel perché non è malaccio alla numero 7 abbiamo autore sconosciuto dal fantastico mondo del web questa libera interpretazione del calcio di Verstappen che va a spogare la sua frustrazione sulla Mercedes di Hamilton forse è qua che scatta il tastino brake magica Hamilton che finirà poi dritto alla staccata di curva 1 con il meme in posizione numero 6 anche questo autore ignoto sempre dal fantastico mondo di Twitter qua posso anche dire questo abbiamo l'interpretazione di queste rosse che continuano a regalare le pole position alla Ferrari e alle Clerc Ferrari è stata annunciata come lo sponsor il title sponsor delle bandiere rosse e infatti gli effetti si sono abbondantemente visti al quinto posto torniamo alla ripartenza della gara di Baku e abbiamo questa reazione in tempo diretto di Toto Wolf alla ripartenza del GP a Azerbaijano vediamo che quando Hamilton ha avuto lo spunto migliore di Perez e lui se la ghignava alla Joy di France e poi per la curva 1 Hamilton va dritta quindi lui sgrana gli occhi c'è anche il filmato del vero Toto come regista questo questo è un metameme nel senso fa meno ridere il meme del filmato vero che fondamentalmente è così con loro tutti i tromfi e poi Wolf che bestemmia in Austria in Austria postretto esatto però essendo questo meme box e non video box ho giustamente messo il meme di Toto Wolf mi sembra corretto mi sembra corretto ai piedi del podio come la Ferrari troviamo le gufate di Gianfranco Mazzoni con un'altra interpretazione del diritto di Hamilton che è lui che praticamente va a parcheggiare nel parcheggio delle ghe di fuga di curva 1 e in mezzo a varie utilità recitavamo anche la Mercedes e poi cominciamo a salire sul podio al terzo posto dai nostri top e flop abbiamo l'interpretazione di curva 15 di Baku dove si sono stampati meno 45 piloti e quindi vediamo questo scontro epico tra la curva 15 e i piloti di Formula 1 dove nettamente è quello di avere l'aspetto più inquietante è curva 15 di Baku come possono confermare vari piloti di alto livello al secondo posto torniamo ancora con Sebastian Vettel da Flop Gear abbiamo questo articolo di Maurizio ride bene con Vettel scoperto a fare l'elicottero nel retro box Ferrari penso che non c'è bisogno di spiegarvi che tipo di elicottero è la sua faccia che mi devasta cioè fare l'elicottero con quella faccia lì proprio così lo senti con questo rumore di pale o di altro con duelle ma a vincere a vincere è una scena ripresa da tantissimi meme io ho messo questo e c'è Hamilton che praticamente ha bissato la scena finale di Fast and Furious 7 quando ci sono Vin Diesel e il compianto com'è che si chiama il biondino non mi ricordo non è Paul Ryan è qualcosa Paul Walker si dividono le strade tra lui e Vin Diesel in questo caso si dividono le strade tra Hamilton e tutto il protone con lui che finisce dritto e gli altri che proseguono la loro gara questa era la classifica di meme box poi abbiamo anche il premio della critica di Irvine che però salvo se vuoi raccontare tutto lo cedo ben volentieri sì no in merito a questo meme di Hamilton alla Fast and Furious dico c'è chi lo ha letto canticchiando la canzone di Wiz Khalifa e chi mente vabbè premio della critica di Irvine è questa cosa qui non è un meme come sapete non devi essere un meme per entrare nel premio della critica ma c'è questa cosa che è bellissima e ci fa un po' da traino per la puntata prossima che sarà tutta 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 dedicata alle moto a meno che non ci sia qualche cosa di molto interessante sulla Formula 1 e non era Quarta Raro in realtà era Rambo che guidava a petto scoperto tra l'altro notavo che anche il nostro Alberto Saiu ha voluto un po' imitare io sono qua in Sicilia quindi camicia di lino un po' aperta bella vita e via allora ragazzi io sono un po' deluso perché avevo data a mano a corda l'idea per il video meme del secolo nel senso vi ricordate tutti della wave quella di Stroll a Monaco e quindi che compariva a Stroll proprio mentre stava per succedere una cosa incredibile e quindi volevo fare un meme nel meme quindi l'inquadratura di Lance Stroll a Baku e proprio quando sta per andare a sbattere contro il muro boom esce la cosa Stroll e Stroll che salta sul cordo alla Monaco cioè sarebbe stata veramente una sorta di Inception delle Strollate più famose però Luca non è stato in grado non ha voluto farlo aveva di meglio da fare come andare a pranzo con la fidanzata e quindi ci ritroviamo senza un capolavoro il mondo è veramente indignato con te Manacollo però cosa ci vogliamo fare va bene no io volevo dire una cosa sei pagato per star qui a dire delle cose esatto tanto ormai siamo lunghissimi penso sia la puntata più lunga della storia nonché la prima con un collegamento in diretta con gli Stati Uniti perché avevamo avuto qualcuno dagli Stati Uniti ma non eravamo in diretta abbiamo dato un certo Mario Andretti certo Mario Andretti però no quello che volevo dire è che questo qui è il primo anno in cui noi facciamo Radio Box in studio anche d'estate cioè anche in questo periodo qui in cui comincia a far caldino e volevo dire questo che oltre ai cari vecchi amati sgabelli che sono scomodissimi in studio si squama non so se vedete la mia fronte lucida quindi fa caldo ci sono pure le luci per cui telare cosa vuoi dire con questo gesto cioè allora saremmo potuti andare via non lo so due minuti fa e tu per dire che vuoi andare via hai perso due minuti guarda io farei un altro quarto d'ora di trasmissione ma perché sono un giocherellone dai fammi divertire va bene i piani alti di motorbox la penseranno così esatto ma la prossima magari se ti è una prossima si è costretta a saltare non si saprà puoi usare il mezzo così per le tue proteste sindacali comunque non mi pare va bene dai direi che è tutto Alberto vuoi ricapitolare allora ragazzi mi raccomando andate su tutte le piattaforme di social networking e scrivete motorbox ci dovreste trovare mi raccomando instagram motorbox com motorbox sport seguite tutti e due i canali youtube per cortesia se il video vi è piaciuto ma anche se non vi fosse piaciuto a noi non interessa moltissimo mettete un bel mi piace scampanellate tutto come farebbe il buon Fumanelli che peraltro dopo l'incidente è tornato sul podio quindi grandissimo fuma e mi raccomando seguiteci sempre su twitch facebook e via dicendo spotify per i palestrati per i bodybuilders e per le nonne potete recuperare la puntata su radiobox formula 1 quindi noi vi salutiamo seguiteci sempre su www.motorbox.com e torniamo torniamo come sempre martedì prossimo alle ore 19 per la puntata numero 15 di radiobox hasta luego ciao 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 no 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 Grazie a tutti.